segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e ne abbiamo appena parlato due quello che potrebbe succedere e oggi ci arrivano notizie veramente oramai sono mesi che parliamo anche di questo no di quel fronte che si può allargare a nord oggi arrivano di nuovo notizie inquietanti rispetto a questo la terza questione è la diplomazia la comunità internazionale che via via sembra prendere nelle le distanze da netthagiaus e non altro e il fatto che però questa diplomazia sembra non avere gli strumenti come se parlare con uno stato democratico fosse davvero assai più complicato di quanto non abbiamo mai immaginato vede fermo restando che anche lo scenario nord è particolarmente preoccupante adesso ci arriviamo anche quella dimensione la tensione con e sbolla continua a crescere diciamo coinvolgere anche il libano dentro il conflitto evoca prospettive che non possiamo nemmeno immaginare detto questo qual è il problema il cuore delle democrazie sono le elezioni noi sappiamo perfettamente che senza lezioni non c'è democrazia nel 2024 sta accadendo una coincidenza straordinaria e cioè che abbiamo quello scenario che lei ha descritto drammatico da far tremare le vene polsi e abbiamo due elezioni una più importante dell'altra quelle europee ma anche quelle americane che rendono la diplomazia di questi due attori fondamentali gli stati uniti innanzitutto e poi l'europa una diplomazia fragile perché chi è tra virgolette particolarmente capace di scommettere chi vuole giocare a dadi con la storia con la vita delle persone può dire ma perché io oggi mi devo mettere d'accordo con un presidente che probabilmente fra qualche mese non sarà più presidente perché devo parlare con un commissario europeo che probabilmente fra qualche mese non sarà più commissario europeo perché devo io essere sottoposto al cambiamento quando posso aspettare che gli altri siano cambiati io rimanga al mio posto è un ragionamento banale ma è ragionamento che sta facendo benjamin netanyahu nice direbbe umano troppo umano purtroppo abbiamo a che fare con una umanità che finisce a volte per negare se stessa dopodiché rispetto a questo ragionamento la comunità internazionale è impotente appare appare impotente nel senso che tra l'altro biden sta giocando una partita complicatissima bisogna anche comprenderlo bisogna anche comprendere a volte dei momenti di vuoto che lui c'ha perché contemporaneamente cerca di sostenere una posizione un ruolo internazionale degli stati uniti cerca anche di supplire alla defiance delle realtà multilaterali pensiamo per esempio alle nazioni unite che sono assolutamente in silenzio in questo momento anche in qualche modo coinvolte dentro gestioni a volte particolarmente non corrette di alcune organizzazioni che agiscono sul territorio lui sa perfettamente che dietro questa vicenda può anche compromettere il suo percorso elettorale e pagare un prezzo altissimo no sta già pagando un prezzo altissimo e ha di fronte un avversario elettorale particolarmente disinvolto per usare il termine più prudente possibile il problema qual è che c'è una parte di giocatori diciamo quelli più disinvolti anche quelli più duri che scommettono sul tempo so che metto insieme cose che forse non andrebbero messi insieme ma dico due nomi uno è putin che ha un altro tipo di visione e ha fatto un altro tipo di scelta in quel caso è lui l'invasore e l'altro è netanyahu in questo caso rappresenta un copolo un popolo colpito non ha israele non ha attaccato nessuno è stato drammaticamente attaccato e tuttavia entrambi queste due personalità internazionali stanno investendo sul tempo e sul fatto che nelle democrazie si vota mentre nelle autocrazie come noto non si vota vede c'è una notizia che di cui non parliamo si vota anche in russia adesso hanno tolto anche di mezzo il candidato pacifista per cui noi non sappiamo chi vincerà le elezioni in europa non sappiamo chi vincerà le elezioni agli stati uniti abbiamo tuttavia una certezza in russia vincerà putin capisce che non è una brillante una brillante notizia no senta le chiedo a proposito di voto che impressione ha fatto di voto che dice che è un'imilietta di voto che ha fatto per la voto che è stata